L'Italia è orgogliosa dei risultati che ha ottenuto da questo punto di vista. Ha salvato l'onore dell'Europa, salvando migliaia e migliaia di vite umane, e ha mostrato la strada per come si può gradualmente passare dal traffico gestito dai criminali a forme sicure e organizzate di migrazioni, di cui abbiamo addirittura bisogno, come Paesi, dal punto di vista economico, culturale, non dobbiamo vergognarci di dire che di questo tipo di migrazione che non mette in pericolo le vite umane e che non è totalmente incontrallata, c'è bisogno nell'Europa che invecchia e che noi vogliamo difendere.